Siamo particolarmente contenti, li abbiamo comunicati al mercato settimana scorsa. Potrei dare due connotazioni della nostra trimestrale. Un capitale molto solido, il capitale solido è primaria materia prima per la banca. Più è solida, più riesce a erogare finanziamenti a favore dei clienti e delle famiglie. E una redditività che tende ad accelerare. Questo significa che esercitiamo molto bene il nostro ruolo di consulenti. Sono positivi i dati degli ultimi nove mesi di Ubi Banca. Il sistema imprenditoriale toscano, ma anche italiano, è profondamente cambiato. Ma noi ci dicono, stiamo al passo. Abbiamo delle competenze specifiche sulla internazionalizzazione, visto che il paese cresce poco. E quindi per crescere bisogna vendere molto distante rispetto al paese italiano. Abbiamo delle competenze molto specifiche sulla innovazione, sul 4.0. Anche grazie a accordi con Confindustria. L'economia italiana è profondamente cambiata. L'economia italiana, pre-crisi e post-crisi, è tutta un'altra cosa. Ancora oggi fatichiamo a recuperare il volume della produzione che avevamo nella decade scorsa. Il processo di crescita che io vedo è un processo di crescita non per quantità, ma per qualità. È una crescita selettiva. Visitando molto spesso le aziende, giusto stamattina, ne ho incontrata personalmente un'altra, riscontro che esistono molte eccellenze italiane, esistono molte eccellenze nel territorio di Arezzo, in settori diversificate, ma sono dominate più o meno dallo stesso DNA, che è tanta passione, tanti investimenti, capacità di competere sui mercati esteri, e un livello giusto di equilibrio tra capitale e debito. Sono anche aziende aperte ai mercati. È un po' questo il fenomeno che riscontriamo, magari ancora un po' latitante, il fatto di connettersi, di scambiare informazioni, di creare economia di sistema. Noi vorremmo essere partner, insomma, e vogliamo essere partner in un progetto in cui il distretto insensolato si prenda un po' a cuore i propri problemi.